Quest'anno il Centro Ecumene Metodista di Velletri in provincia di Roma compie 70 anni. Un anniversario importante, una storia lunga per questa bella realtà educativa e aggregativa del Centro Italia. Importante e interessante da raccontare e lo facciamo con la nuova vice direttora, Naomi Cino. Una figura peraltro non sempre presente nella storia di Ecumene, quindi vogliamo un po' capire con te in che cosa consiste perché ricordiamo che finora il personale del Centro era costituito dalla direttora che attualmente è Elvira Migliaccio e tu da poche settimane la affianchi, quindi in che cosa consiste il tuo lavoro? Innanzitutto ti ringrazio per l'opportunità di questa intervista. Insomma diciamo che questo ruolo è un ruolo nascente, è un ruolo che vuole in un qualche modo innanzitutto essere di supporto al lavoro della direttora che gestisce tutto in modo eccezionale rispettando in particolar modo quella che è la tradizione di Ecumene. Come è già stato detto, come è specificato, sono 70 anni di attività e che in qualche modo quindi fanno sì che Ecumene si sia ben consolidata negli anni, che abbia una sua tradizione da rispettare, abbia un suo vissuto da rispettare. Eppure ciononostante questo ruolo, pur avendo ben chiara la tradizione di Ecumene e la storia di Ecumene, cerca di apportare comunque delle novità che vogliono portare la struttura ad ampliarsi al di là anche oltre dei confini nazionali e quindi quella che è un po' quello che è un po' il mio vissuto, le mie esperienze possono in qualche modo cercare di creare, di sviluppare queste relazioni portando sia persone dall'esterno all'interno della nostra struttura, tanto quanto permettere ai nostri ragazzi poi eventualmente di fare delle esperienze in altre realtà all'estero. Ecco infatti il tuo vissuto, la tua provenienza, tu sei italiana, sei di Napoli, però hai girato un po' in varie parti del mondo, quindi se vuoi raccontarci a grandi linee brevemente quali sono state le tue esperienze, in quali ambiti e quindi come questo tuo vissuto può contribuire, anzi vorrebbe nelle intenzioni appunto contribuire a un ampliamento internazionale dell'azione di Ecumene. Certamente, allora ho avuto l'opportunità indagandomi su quella che era la mia fede, quello che era il mio percorso di fede, di intraprendere diverse opportunità, cioè diverse esperienze. La prima nel Regno Unito, in un centro conferenze cristiano, dove per l'appunto si viveva molto questa sinergia tra i giovani provenienti da tutte le nazionalità accomunate, giovani accomunati nonostante la loro diversità, da una fede, un entusiasmo comune. L'altra è stata negli Stati Uniti con le Port League, un gruppo missionario originariamente metodista, adesso no profit, che si occupa in particolar modo dei giovani e che ha come obiettivo quello di cercare, di coinvolgere, nel loro caso specifico, i giovani adulti, quindi cercando di percepire quella che è un'esigenza, una mancanza all'interno delle nostre, nel caso degli Stati Uniti anche, quindi è interessante sapere questo, andare a cogliere quella carenza e quindi accogliere questi ragazzi e farli sentire in un qualche modo partecipi e non solo, renderli partecipi attraverso la comprensione di quelli che potevano essere i loro talenti, quindi ponendosi delle domande in che modo posso utilizzare quelli che sono i miei talenti al fine della crescita della Chiesa, al fine della testimonianza della Chiesa. Poi per un anno sono stata in Danimarca insieme alla missione metodista danese, dove per l'appunto ho aiutato in particolar modo con il caffè sociale, nel caffè sociale che si occupa di distribuire pasti ai senza tetto che vivono nella zona di Copenaghen e anche lì è stata un'esperienza a tutto tondo perché a di là del lavoro svolto nel senso più pratico con l'aiuto, con la cucina e così via, c'è stato un interagire con quella che è poi la missione metodista danese che comprende anche i giovani che vivono lì nel dorme e che quindi in un qualche modo si affacciano alla realtà metodista e offrivano a modo loro un aiuto, un supporto all'interno della struttura in senso proprio pratico. Le cose che hai citato sono molto presenti anche appunto nella tradizione, nell'attività delle Chiese metodiste italiane e anche di Ecumene. Tu Ecumene l'hai già incontrata nel passato, nella tua vita, come l'hai vissuta e come l'hai vissuta anche in queste recenti settimane di inizio del tuo lavoro? Che cosa hai appunto vissuto in questo inizio del tuo incarico al centro Ecumene? Allora Ecumene per me è stato, al di là di tutte queste esperienze, Ecumene è stato proprio il primo approccio in una realtà che permettesse di entrare in contatto con altri giovani appartenenti alla realtà protestante e non solo. Quindi aprirsi un attimino a degli altri contesti, a degli altri vissuti, a delle altre esperienze, aprirsi a una diversità, a uno scambio che poi si è rivelato fondamentale. E in seguito a questa opportunità che mi è stata offerta, quindi con l'arrivo a Ecumene, ho ritrovato quella stessa atmosfera, quell'atmosfera che cerca in un certo senso di creare uno spirito di appartenenza, un senso di appartenenza nei giovani. Questo bisogno è una realtà che poi tende ad essere sempre un po' più individualista, a creare un senso di comunità. Quindi ad Ecumene si sperimenta molto la vita comunitaria, viene posta un'enfasi nella vita comunitaria, perché viene fatto intendere ai ragazzi che ogni momento del campo è fondamentale ed è parte dell'esperienza stessa. Quindi anche l'aiuto in senso più pratico è parte dell'esperienza del campo stesso. E quindi c'è un clima di estrema familiarità, anche col campo di Ferragosto, durante la celebrazione dei 70 anni, si aveva l'impressione di essere più in una famiglia, che è in una realtà, all'interno di un campo, di una struttura ecumenica. Però al tempo stesso i giovani hanno avuto l'opportunità, i giovani che erano presenti col campo giovani, perché c'è stato un interlacciarsi tra il campo giovani e il campo di Ferragosto, hanno avuto l'opportunità anche di confrontarsi su diverse tematiche e quindi anche in quel caso un accogliersi nelle diversità e creare dei confronti che poi sono fondamentali al fine di sviluppare quel senso di appartenenza che in un certo senso ci anima un po' tutti e che ritroviamo poi attraverso la vulnerabilità con il lasciare andare a volte tutte quelle maschere, quelle barriere ed aprirci insomma in modo onesto, sincero agli altri e alle voci degli altri. Grazie mille per questa tua testimonianza, diciamo anche un programma di lavoro che ci hai presentato, quello dei, appunto per i prossimi mesi, i prossimi anni, che ti auguriamo che siano fruttuosi, positive e saranno sicuramente di beneficio per il centro. Quindi buon lavoro e ci vediamo, è più bene. Grazie mille.